In armadio cappotti e sciarpe perché a quanto pare il sole si farà ancora attendere. Sentiamo. Disaggi in Campania, in tutto l'agro nocerino sarnese, il maltempo continua a fare danni, a creare disagi anche all'agricoltura. Seppure siamo in piena primavera, del sole nemmeno una traccia e le città dell'agro nocerino sono in ginocchio. Allagamenti, avvallamenti e tombini letteralmente saltati a causa della pioggia incessante che si è trasformata in alcuni momenti in grandine. Tante le strade allagate che hanno costretto i cittadini a rimuovere tombini e caditoie per facilitare il deflusso dell'acqua e ad Angri in onda ancora una volta il rio sguazzatorio. Paura anche a Scafati, dove le acque del fiume Sarno hanno raggiunto livelli record. Il tempo sembra migliorare ma sono previsti temporali, aria fredda per i prossimi giorni. Per riscaldarsi un po' al sole bisogna aspettare ancora un'altra settimana. Intanto gli sbalzi di temperatura mettono a rischio la salute di milioni di cittadini. I repentini mutamenti meteorologici infatti sono sempre più frequenti e le conseguenze sul nostro organismo possono essere diversi maggiore.